Grazie Presidente. Purtroppo è l'ennesima volta che mi ritrovo sempre a riproporre qui lo stesso argomento. Stiamo parlando della terra dei fuochi e delle affermazioni che fa la Lorenzin dicendo ogni volta che va in campagna che noi moriamo perché abbiamo un cancro, perché in realtà mangiamo male. Ora, il fatto che noi l'abbiamo sempre considerato una pura menzogna è chiaro, l'abbiamo sempre detto. Il fatto è che adesso a contraddirla non è il Movimento 5 Stelle o i cittadini campani, ma è l'Istituto Superiore di Sanità e ripeto la frase, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono che nei siti a rischio, quindi affetti da una contaminazione ambientale a lungo termine, c'è un aumento delle patologie. La correlazione tra siti a rischio e aumento delle patologie è evidente, è dimostrata da dati scientifici incontrovertibili. Ora, vede Presidente, il problema non è più politico ma vorremmo capire chiaramente che cosa sta accadendo e quali sono questi dati scientifici e soprattutto perché la Lorenzin, se il suo Istituto Superiore di Sanità dice una cosa del genere, continuano ad andare in questi territori ormai del tutto martoriati a continuare a dire queste falsità. Chiarezza l'ho richiesta in Commissione e la richiedo qui in Aula perché veramente non se ne può più ad avere queste contraddizioni perenni. Concludo queste contraddizioni perenni dalle stesse istituzioni che si sentono offese continuamente dai loro rappresentanti. Grazie.